E' attivo un numero whatsapp per smaltire potatura e sfalci. Aisa Impianti firma un contratto con Coldiretti per abbattere il fenomeno degli abbruciamenti e proteggere salute e ambiente. E' un accordo importante con Coldiretti per un servizio rivolto a chi ha dei piccoli appezzamenti di terreno, orti, giardini e che ha la necessità di biotriturare sul posto le famose ramaglie per evitare di bruciarle, per evitare di conferirle a cassonetto e quindi è un servizio che Zero Spreco sostiene e tramite Impresa Verde di Coldiretti fornisce a un prezzo chiaramente calmierato rispetto a quelli che possono essere i prezzi di macchine operatrici e di operatori. E' un servizio professionale e ha questo duplice messaggio ambientale in sé. L'importanza della riduzione dei rifiuti, quindi evitare di conferire a cassonetto quegli scarti che possono essere lavorati sul posto e al tempo stesso dare una forte mano a tutti coloro che appunto hanno intenzione di organizzarsi sul proprio appezzamento di terreno per tutte le operazioni di riduzione dei rifiuti. Ci troviamo di fronte ai cambiamenti climatici che ci impongono la massima attenzione perché siamo di fronte a dei periodi di siccità anche in mesi come l'ottobre e il novembre che effettivamente prima non erano certo siccitosi. Quindi c'è l'aspetto del pericolo che certi abbruciamenti possono innescare sotto forma di incendi e c'è anche l'aspetto del fumo. Il fumo sono polveri, sono gas, CO2, anidride solforosa, è tutto quello che va evitato di mandare in atmosfera. Quindi questo servizio serve appunto a trasformare quello che è uno scarto in humus, in ammendante, che può essere poi tranquillamente riutilizzato nel proprio territorio, nel proprio terreno. Nello specifico come funzionerà questo servizio? Funziona in maniera molto molto semplice. C'è un numero telefonico, Whatsapp, ma risponderemo ovviamente anche al telefono per prenotare questo tipo di servizio. Alla prenotazione del servizio va pagato il contributo che chiediamo direttamente all'operatore. Nel giro di qualche giorno noi arriveremo con una macchina operatrice, trainata ovviamente da una piccola trattrice, e facciamo il lavoro direttamente di trinciatura di quelli che sono i residui della potatura, in modo da lasciar lì un ammendante che può essere utilizzato o direttamente perché spazzo sul terreno, o per chi non può fare questo, mescolato anche con dei prodotti che sono quelli che poi AISA mette in campo come concimazioni, può diventare in realtà un piccolo concime, un terriccio che può poi essere utilizzato sui vasi o anche sul terreno o sui giardini.